E sta girando questa intervista, signori, a Massimo Ciavarro questa icona, sex symbol, degli anni 80, dove lui subito ha detto a me non mi è mai piaciuto essere attore perché per recitare devi essere assolutamente narcisista e un po' esibizionista. E io sono l'esatto contrario, quindi sembrava che stesse dicendo, invece no, tutto il contrario. Noi conosciamo bene il figlio, quest'oggi seguiamo anche le sue vicende ogni tanto, ma non ci ricordiamo che tutto ha avuto inizio da Massimo Ciavarro, cioè il biondino star di film cult come Sapore di Mare, chi è che non se lo ricorda appunto. Oggi è un 65enne ma sta in formissima, dopo la popolarità si è letteralmente ritirato in campagna, sì, a zappare la terra e a peschiare un po'. Vabbè, ognuno ha i suoi hobby. Fin da piccolo andavo sempre con papà in un campo che aveva fuori Roma. Ma papà morì prestissimo, io avevo 13 anni. E prima di morire mi disse la frase che mi ha rovinato. Massimo, questa è forse l'ultima volta che ti vedo, prenditi cura di tua mamma e delle tue due sorelle. Mi ha lasciato sto fardello a 13 anni. Presi in mano la sua attività, lui era commerciante, acquistava in tutta Europa e vendeva in Italia. Ma succede che tutto quello che compravo dovevo pagarlo e tutto quello che vendevo non mi veniva pagato. Così, quando a 14 anni mi offrirono un fotoromanzo, accettai, racconta il Corriere della Sera. Dopo i fotoromanzi arrivò il cinema. Ma non mi è mai piaciuto essere attore. Per recitare, devi essere narcisista, egoriferito, esibizionista. Io sono l'esatto contrario. Certo, non potevo sputare su una fortuna economica, ma il cinema mi metteva ansia e stress. Appena ho potuto, ho fatto cose che mi somigliavano di più. L'azienda agricola, il produttore di tre film e di tre documentari, e oggi un'attività turistica a Lampedusa, dove organizzo pure, da 14 anni, un festival di cinema, Vento del Nord, con Laura Delli Colli. La metà delle donne mi dice che aveva il mio poster nella cameretta. Faccio parte di quei dinosauri che riconoscono tutti. Oggi, invece, i personaggi nascono e spariscono. Nei primi film, interpretava sempre il bel ragazzo che faceva innamorare tutte, ma nella vita era l'opposto. Avevo una fidanzata, stavo sempre con lei. Dopo, ho avuto un paio di anni di vita notturna, i miei anni più schifosi. Con Moana Pozzi ci sono stato una sola sera. Dopo dieci esami in giurisprudenza, mi ero iscritto a una scuola di recitazione, La Scaletta, c'erano lei e pure Margherita Bui, già stressatissima come oggi. Moana era timidissima, sensibile, di buona famiglia, ricca. Una volta, stavamo chiacchierando e finimmo a letto. Ma lei gli diede voto 6. Così scrisse nel suo libro, dato che non m'ero tolto i boxer. Con Isabella Ferrari, invece, non successe mai niente. E Nicole Kidman, era carinissima, mal di fuori da ogni tentazione. Giravamo un'australiana a Roma, era giovanissima, una cavallona alta alta, tutta riccia, priva di ogni sex appeal. Quando si chiacchierava col regista Sergio Martino, diceva, Io arriverò, io farò un gran carriera. Io e Sergio pensavamo, guarda, sta disgraziata. Fra noi, non ci fu niente. E poi stavo già con Eleonora, che mi mettevo a fare il pagliaccio. Avevamo un progetto condiviso. Abbiamo costruito case, allevato animali, fatto l'olio, siamo stati bene, è nato Paolo. Preferivamo quello ai film. Poi, Eleonora mi ha lasciato. Mi sono fidanzato con una svedese e, quando se n'è andata anche lei, mi sono detto che lì, da solo, rischiavo l'abbruttimento. Ora, è fidanzato. Ho una persona a cui voglio molto bene. Voler bene è di più dell'amore. Che è una cosa un po' folle, con torta.